Il 25 ottobre a Porto Torres si rinnovano i riti dedicati ai martiri turritani in occasione del Dies Natalis, giorno che coincide con la decapitazione avvenuta nel 303 d.C. dei Santi Gavino Protegianuario nella scoliera di Balai Lontano. Con la tradizionale festa di ottobre si concludono le ricorrenze annuali dedicate ai Santi, iniziate il 25 aprile, festa di Santu Bainzeddu e proseguite con la festa manna di Pentecoste. Alla solenne celebrazione religiosa presieduta dal Civescovo di Sassari, Monsignor Gianfranco Saba, che si svolgerà domenica 25 ottobre alle 18 nella Basilica di San Gavino, l'Assessorato della Cultura ha affiancato quest'anno eventi collaterali che inizieranno il 17 ottobre con musica, danze, mostre, proiezioni e giochi, che si concluderanno appunto domenica 25 con il concerto nella Chiesa della Consolata alle 12 e un quarto, con il coro polifonico turritano diretto dal maestro Laura Lambroni, che proporrà il concerto per la festa dei martiri turritani. Il cartellone, promosso dall'amministrazione comunale, è stato inserito nel progetto della Camera di Commercio di Sassari denominato Salute Trigu.